Cassaforte Anche la batteria non so bene a che cosa serve Forse servirà per qualche arma Ok, proviamo a scendere Questa porta di servizio dove Ah, guardate qua, una bella cassaforte Ok, qua è auto aggirante Vende E qua si arriva Oltre quella porta che già ho controllato Allora Io dovrei andare verso La metro di Rapture Che dovrebbe Dovrei procedere di qua Probabilmente Togliete i punti Non voglio farvi del male Alcune volte È necessario Sanguina Sanguina Il Saturnino Via, via Fatti vedere tu, amico Non voglio farti del male Neanche io Alcune volte È necessario Dai che si può bruciare tutta sta roba Ho promesso che non ti faremo del male Sembrerebbe di sì Perché stai ritardando le tue cure Però non sembra Non sembra consumarsi Perché stai ritardando le tue cure La vegetazione Stanno arrivando Cipicchia Questo posto è nostro Sangue Nostro Come posso Non ti fai vedere Ok Non voglio farvi del male You invent Quella lì è un nuovo macchinario Ragazzi Non mi sarebbe dispiaciuto Io ci provo a fare del male Io ci provo a fare del male Ops Ui Ui Lasciamolo Diciamo che se ne occupi I rosi Ok Allora Stazione robot Avrei preferito Una stazione medica Ma vabbè Diamo un'occhiata A questo Macchinario qua Allora Invento oggetti Che cos'è questo? Una Invento mat Ti permette Di assemblare materiale Di ogni genere Che si trova a rapture Tubi di gomma Viti eccetera E trasformarlo In oggetti utili Gli oggetti realizzati Sono rari Se non addirittura Unici A rapture Aggirando con successo Una invento mat Riduci il numero di componenti Necessari per creare un oggetto Quindi È evidente che Dovrò Aggirare questa invento mat Ok Ah ok Quindi serve per fare Questi Grimo Gli oggetti utili Diciamo Prietili perforanti Ma al momento Non posso fare Nulla Magari più avanti Lì c'è un big daddy Con una sorellina Non c'è il modo Sì che c'è Ok Tutto qui? Ok Prima di cercare Di affrontare Quel Big daddy Volevo magari vedere Se riuscivo a trovare Riuscite proprio di qua? Andiamo un po' Di mappa Mi sa di sì Mi sa proprio di sì Allora Prima di andare avanti Di qua Voglio esplorare Un pochino La zona Ops Ah Un altro Udinico Ok Ok Temperatura Incazzo Lì c'era Una torretta Azoto liquido E questa porta di ferro? No È una parecchia Brian ci ricorda Tutti facciamo delle scelte Ma in fondo Sono le nostre scelte A fare noi Non si può usare Questo Telescopio Parecchie porte nascoste In questa Mappa Eh ma Esageratamente forti Questi Proviamo Ma Ok Così Così E poi Ho capito dove deve andare Deve andare su di qua Ok Bene Bene E poi Oggetti di Valore Decisamente Questionabile Vabbè Teoricamente Mi dice di andare Proprio di qua Sì perché da lì Arrivo a quest'altra zona Lì c'è una torretta Eccola qua Eccola qua Non ci posso arrivare Eh Eccola qua Che la terra Apparteneva a Dio E pretesero che Destinassi l'area Parco pubblico Perché Perché la plebaglia Potesse starsene Strabarcata sotto le pronte Facendo finta Che quello Possesse Inveritare Un pardiso Quando il congresso Decise di nazionalizzare La mia foresta La incendiai Non è stato Dio a piantare I semi Di questa arcadia Sono stato Io Ok Slot per plasmide Ah qua ti dà degli slot in più Interessante Eeeh Elettroscarica 2 Subisci meno danni da fuoco E puoi infliggere più danni Quando usi il fuoco Mica male I plasmidi Consumano meno Eve Decisamente Utilissimo Eh Tutti questi qua Da uno Sono da prendere I plasmini Consumano meno Eve Eeeh Questo cos'era? Non me lo ricordo Vabbè Reduce i prezzi Dei distributori Potrei mettere al posto di quello slow Sì Questo qua lo prendiamo ma non lo metto E poi Ardente Subisci meno danni da fuoco Puoi infliggere più danni quando usi il fuoco Snack e bende Ok il resto me li tengo va E adesso ragazzi è venuto il momento Di farsi massacrare Da questo Vediamo se c'è dei pallettoni Antici Anti uomo Non vanno bene Mi servono Questi Perforanti Facciamogli un po' di E' un pochino Via, 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 via Uh Porca miseria Aia Uh Eh, qua ci rimango secco Peccato perchè ce l'avevo quasi fatta a farlo fuori Dove sei? Adesso lo frego, lo metto Lo faccio venire di nuovo di qua Dio presto ci ha troppo Mister patra Mannaggia Anche qua mi sa che ci resti Purtroppo Incredibile Mister B Mister B No No Incredibile Adesso morirò per la torretta sicuramente Grazie 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 Maledetta va Oh, un bel 200 Adam Sono pronta per i sogni Uno dei prodotti più popolari di Huxmart Scassinatore ti permette di avere accesso a luoghi dove non sei gradito Ricombinati ora e comincia ad aggirare Direi Direi di metterlo Riduce la difficoltà quando giri i casseforti e serrature No Non mi piace Mister Invece qua Invece qua con questo bel 316 di Adam Con questo Ma questo magari No Allora Allora E 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 Questa volta Non l'ho visto Sicuramente prenderò uno slot per plasmide Benissimo Chiama un big daddy in tuo aiuto Fagli credere che sei una sorellina Guardalo mentre combatte per proteggerti Ok E anche un miglioramento saluto e sicuramente E E Decisamente Importante Bersaglio Creonesca che attira gli attacchi lontano da te Lancia ricombinanti in aria che si feriscono gravemente al momento della caduta Questo non è male Questo penso che lo potrei prendere Insegna ai tuoi nemici una lezione grazie a trappola vortice delle Ryan Industries Le Ryan Industries non sono responsabili per i danni causati ai ventilatori, lampadari o altri oggetti sospesi Eh Lo metto al posto di quello di ipnotizza big daddy Piazza delle trappole per i nemici ignari Attira i tuoi nemici in anguati mortali Questo non deve essere male E poi posso ancora mettere Eh E' elettroscarica 2 120 costa E allora Anche in furia non è male Anche quello che è congelante Sono tutti belli questi plasmidi Prenderò i dardi criogenici Ma si Ok E tolgo attira sicurezza Congena i tuoi nemici Prantumali migliaia di schigge Eh mica male Se è effettivamente così È il pugno congelante Ok Qua c'è una banca genetica Allora Ogni volta che giri qualcosa acquisisci una piccola quantità di salute e di Eve Quindi questo E' molto importante No Eve add Ottieni il massimo dei tuoi kit medici con Eve add Questo nuovo rivoluzione aeratonico genetico permette al tuo corpo di produrre Eve ogni volta che si vedi fattori di Ok Ok questo invece Non è andato dentro dei nostri giorni però Questo mettiamo al posto di questo Ok Perfetto E poi Reduttore all'armi Hacker vigile Dizinesca le trappole di sovraccarico dei sistemi di sicurezza Eh Reduce la durata di allarmi delle telecamere Questo non è male Ok Ok E poi qua volevo Robo combat Danne inflitti alle telecamere ai robot Oh Facciamo questa qua forza brutta Anche se la chiave inglese non la sto usando più Molto Ok Ok Waterfall grotto C'è stata una forte pressione per regolare il business dei plasmutri Sono emersi problemi con l'andare Davi nervosi Cicità Follia Morte Ma a che serve la nostra ideologia se non può essere testata Il mercato non reagisce come un bambino Strillando al minimo segno di scontento Il mercato è paziente E anche noi Dopo muovere Vorrei Vorrei semplicemente prendere Ok Ehm A questo punto Direi che mi potrei fermare qua Direi che mi potrei fermare qua Direi che mi potrei fermare qua C'è parecchio ancora da esplorare E' parecchio Parecchio esteso questo Questo livello Non so neanche io bene Marca miseria Vediamo se riesco Eh due addirittura Però non m'hanno visto Però non m'hanno visto Ok Bene Ok ragazzi a questo punto vi saluto E ci vediamo Nel prossimo video di let's play Bioshock Ok qui c'è la torretta malefica Calma 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 Vediamo un po' se per caso riesco a Dargli una fotografata Questa fotografata Vabbè Bioshock I Vabbè Vabbè Cosa? Bioshock Via Bioshock 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 A Bioshock A Cosa? Bioshock Cosa? Ma ricombinati con cautela e sarai felice devo aver preso la sfida di grado B questo si può ancora girare un bel kit medico anzi due ok ragazzi qua mi fermo veramente ci vediamo nel prossimo episodio di Let's Play Bioshock ciao a tutti ciao ciao